Benvenuti ad Art Monitor. Il mese di marzo ha avuto due momenti di mercato dell'arte antica molto importanti. Tefaf a Maastricht, 31esima edizione, che si è chiusa dieci giorni fa, e il Salon de Saint di Parigi, che si è chiuso ieri. Entrambe le manifestazioni si sono chiuse con un grandissimo successo, non solo di visitatori, ma soprattutto di vendite. Allora vediamo nel dettaglio. Tefaf, che ha la 31esima edizione, oramai ha creato un indotto di circa 20 milioni di euro all'anno per la cittadina. Tutto il mondo arriva a questa manifestazione di arte antica, che nel tempo ha aperto anche i dipartimenti di moderno, di contemporaneo, di arte tribale, di disegni. E devo dire, il primo giorno, che era una preview, quindi un giorno proprio dedicato agli addetti ai lavori, c'erano direttori di museo, collezionisti molto importanti, c'erano storici dell'arte, c'erano anche gestori di fondi di investimento in arte, tantissime vendite proprio all'apertura. È stato venduto da Canesson, fregio della scuola di Fontainebleau, da per esempio Carlo Orsi, un bellissimo quadro di Cerco del Caravaggio, allievo, probabilmente l'unico allievo di Caravaggio, ed era una Maria Maddalena. In una galleria francese erano proposte dei paesaggi della scuola di Pontaven, cioè la scuola dove si è formato Gauguin, quindi pittura post impressionista, che è piaciuta moltissimo ai visitatori americani, che sono tornati in massa dopo anni che avevano un po' desertato il Tefal, e 19 di queste tele sono state vendute. I prezzi molto importanti, però da Piva abbiamo visto un bellissimo ovetto in lamina di tartaruga, quindi un oggetto di virtù, a 2.500 euro. Un anello, per esempio, di epoca mesopotamica a 14.000 euro, poi si è arrivati da Hammer, che è un grandissimo antiquario, a un Van Gogh con degli iris dipinti negli ultimi anni della sua vita, proposti e venduti a 9 milioni e mezzo. Quindi diciamo che a Tefaf il mercato dell'antico è tornato a respirare e questo è un segnale che già avevamo avvertito all'inizio dell'anno, che si riconferma. Una parola anche su come è andato il Salon de Dessant di Parigi, è andato molto bene, anche lì si vedevano in vendita fogli da 20.000 a un milione di euro. Il disegno funziona molto nel collezionismo perché l'opera su carta è trasversale. Sono opere su carta sia foglie antiche che di arte moderna e contemporanea, quindi una collezione può spaziare pur rimanendo omogenea per questo supporto che accomuna le opere. Molto richiesti e di facile vendita i disegni di scuola emiliana, per esempio di Gandolfi, di Reni, di Guercino. Anche qui abbiamo avuto da Jean-Luc Baronis, che è un po' l'antiquario con base a Londra di origine italiana, più importante per il mercato dei disegni, in vendita per circa 3 milioni e mezzo una veduta di Venezia molto bella di Canaletto. Però si potevano trovare anche dei paesaggini di Monet ad acquarello e a tratto a penna a 350.000 euro e quindi una possibilità un po' per le tasche dei grandi investitori che nel disegno trovano un comparto che ha reso quasi meglio secondo l'indice di art price del mercato dell'arte e in particolare del mercato della pittura. Da 20 anni oggi il comparto del disegno è cresciuto del 100%. Da Art Monitor un caro saluto Marina Mojana.